Bella ragazzi, qui M200Tech e sono in compagnia del Tossico di Raven Siamo qui oggi su Lost State per parlarvi della nuova Recruiting Challenge Sì, allora, il periodo di prova va dal 16 aprile al 27 aprile Un periodo di prova di 11 giorni circa I standard da utilizzare sono ormai quelli comuni Triple T, Deadshot, 4 Deadshot, Final Screen Le console invece sono Xbox 360 e PS3 Sì, rega, preferibilmente le clip in dominio su Black Ops 2 o tipo Guerra Evitati di farle in demolizione perché ormai si sanno gli spot, gli spawn e tutte queste cose Anche in MV3 evitare di fare spawn trap su dominio, queste cose così Poi la tag è K7, HDPWare obbligatorio, HDPWare o Avermedia insomma Una scheda d'acquisizione in HD Cosa c'è ancora da dire? Quando finite i giorni, l'ultimo giorno fate un unico video come video di risposta a questo video Se avete problemi o domande o qualsiasi cosa metterò il mio Skype in descrizione E chiedete pure Sì, sì, alla fine dei giorni mandate il tutto come non entrate o allo Skype E poi voi, faremo sapere Buona fortuna, ragazzi Bella Ciao Ciao